ciao a tutti e bentornati sul canale oggi vi portiamo con noi in un poveriggio di scatto qualche settimana fa infatti siamo andate a Nemi sperando di fare qualche bella foto al che tutte le macchinette che avevamo portato hanno deciso di rompersi contemporaneamente perciò non abbiamo scattato assolutamente nulla è stato un poveriggio disastroso terribile l'azienda bronica ci ha lasciato nel frattempo abbiamo deciso di andare via di andarci a fare un aperitivo perché non era cosa quella giornata era terribile ma tornando abbiamo sbagliato strada e sbagliando strada abbiamo trovato questo bellissimo parco che si chiama i prati del vivaro e quindi due settimane fa abbiamo deciso di passare un pomeriggio di scatto dove tutto è andato bene stranamente bene e quindi vi portiamo con noi e sperando che le foto vi possano piacere musica musica maestra e quindi vi portiamo con noi e sperando che le foto vi possono fare un po' di più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.